Una nuova puntata Una nuova puntata di Intorno alla Ghirlandina vi porta alla scoperta dei principali eventi cittadini della settimana. Quali temi toccheremo oggi? Lo scoprirete nel corso della puntata. Prima di passare ai servizi, sentiamo le parole di Don Gianni. Buonasera. Fu elevato in cielo. Così descrive l'ascensione l'Evangelista Marco. Prima Gesù aveva parlato agli undici. Giuda, il traditore, non c'è più. Da quelle parole nasce la Chiesa, una compagnia di uomini e di donne incaricati di andare a tutto il mondo a proclamare il Vangelo a tutti, senza alcuna esclusione, accompagnando l'annuncio con gesti di bontà, di liberazione dal male, al male spirituale e materiale. Due impegni che hanno coinvolto tanti lungo i secoli e che hanno portato la fede cristiana ad essere praticata in tutto il mondo. Mai contenti dei traguardi raggiunti, che non sono solo di tipo quantitativo, i seguaci di Gesù Cristo, con la loro vita spesso non più santa di quella di coloro in mezzo ai quali vivono, hanno lottato e lottano perché il male sia sconfitto, perché l'uomo, ogni uomo appartenente a qualsiasi popolo, sia pienamente libero. La festa dell'ascensione richiama insieme il momento del distacco di Cristo risorto dai suoi e la sua presenza misteriosa di vivente in mezzo agli uomini di ogni tempo. Da qui la forza indispensabile della loro piena realizzazione nell'amore. E' lui, sempre vivente, seduto alla destra del Padre, a dare speranza all'uomo, a coinvolgerlo in una vita senza fine, una vita insieme a tutti i giusti. Buonasera e buona ascensione. Il premio Nobel a Marti Assen è stato protagonista domenica 13 della lettura annuale Ermanno Gorieri sul tema disuguaglianze e giustizia sociale. Al partecipatissimo evento ha preso parte anche Stefano Zamagni, docente ed economista, intervenuto ai microfoni di intorno alla Ghirlandina. Parafrasando il titolo di un suo libro, Economia ed etica, la crisi e la sfida dell'economia civile, in che cosa la crisi può trasformarsi in opportunità, secondo lei? In che modo? Il modo è semplice da capire, più difficile da realizzare e cioè bisogna riuscire a comprendere che si vuole una società con il mercato e non una società di mercato. La società di mercato è una società dove il mercato diventa totalista. Totalista significa che si prende il tutto, tutti gli ambiti, da quello familiare a quello politico, eccetera, che è esattamente il significato profondo di questa crisi. Qual è il messaggio di questa crisi? Che la finanza, il mercato finanziario, governa il mondo. Volere invece, come vuole l'economia civile, una società con il mercato, dove il mercato ha un ruolo importante da giocare ma non è il tutto, è l'obiettivo che secondo me oggi occorre perseguire. Questa concezione è antica perché l'economia civile nasce in Italia a partire dal 1700 e quindi è un prodotto dell'altissima cultura italiana, cioè dell'illuminismo di marca milanese e di marca napoletana, ma poi è stato abbandonato a favore dell'altra impostazione. Ebbene, io ritengo che oggi siano maturi i tempi, la gente sta aprendo gli occhi, sta capendo come un mercato che sfugge alla regola della politica, meglio, meglio, della democrazia, è un mercato che tende a produrre disastri, povertà, diseguaglianze e via discorrendo. Con una solenne celebrazione in Duomo, presieduta da Monsignor Antonio Lanfranchi, sabato 19 verranno istituiti sei lettori e otto accoliti. Un momento di festa e di gioia che rappresenta il culmine e la conclusione di un percorso che i 14 hanno portato avanti nel tempo. Marcella li ha incontrati per noi alla vigilia dell'istituzione. Paolo Zanni, qual è il compito dell'accolito all'interno della parrocchia? Nella Chiesa, come sempre, si parla subito di fare, ma il primo compito, credo, sia quello di credere e quello di amare. Siccome noi siamo ministri dell'altare, accanto al sacerdote e celebrante, il compito è di assisterlo prima di tutto in questo. Naturalmente c'è anche un fare, che è quello di farlo celebrare con piena serenità. Del fare ce ne occupiamo noi. Oltre a questo, noi possiamo anche esporre il Santissimo in semplici celebrazioni dove manchi un diacono, un sacerdote. E poi possiamo anche portare l'Eucaristia, il corpo di Cristo, ai malati. Non solo portare il corpo di Cristo, ma anche permettere così questo senso di comunione, di unità, tra la realtà parrocchiale che ha celebrato l'Eucaristia e il malato, il piccolo, l'infermo, che sta vivendo una sua condizione così di isolamento e di solitudine. Giancarlo Gasparini, abbiamo ascoltato quali sono i compiti dell'accolito e invece quali sono, oppure se mi può definire, la figura invece del lettore. La parrocchia è una famiglia. In una famiglia c'è un padre e ci sono tante persone che assieme aiutano il padre a svolgere il proprio lavoro. Il lettore deve essere all'interno della parrocchia quello che aiuta il parroco a spiegare e a dare corpo e significato e senso alla parola di Dio attraverso le scritture, attraverso gli Evangeli, attraverso la Bibbia. È un'opera di servizio, è un aiuto. Non è nient'altro che cercare di portare la parola di Dio a tutti, con molta semplicità, con molta umiltà, cercando prima di viverla e poi di spiegarla. E questo è il dato fondamentale, prima di viverla e poi di spiegarla. Un percorso formativo, quello dell'accolito e del lettore, dalla durata di due anni, che si concluderà sabato in Duomo, sabato 19 maggio. Ci spieghi un po' che tipo di percorso avete fatto? Allora, noi ci mandano come preparazione all'Istituto Ferrini e ci fanno fare dei corsi di ecclesiologia, corsi di teologia dei ministeri e altri corsi vari per cercare di farci formare e di capire veramente che cosa è il nostro percorso e che cosa andiamo a fare più che altro e anche capire che cosa è la teologia in se stesso perché la parola di Dio è una cosa molto molto importante e una cosa che per noi è molto profonda. È il cammino dell'accolitato, è un cammino oltre ad essere molto bello, ma è un cammino molto profondo che serve proprio, l'accolito è proprio colui che serve, un servizio alla Chiesa e ai fratelli. Quindi sono due percorsi separati quelli dell'accolito e del lettore? Sì, sono due percorsi separati perché l'accolito è colui che serve all'altare e il lettore è colui che porta la parola di Dio. Noi aiutiamo il parroco nella liturgia e nel servizio e invece il lettore legge la parola di Dio. All'interno della nostra diocesi il valore del laicato incomincia ad essere molto importante anche perché il numero dei ministri istituiti e diaconi è molto alto. Questo però tra l'altro risponde in modo particolare a quello che ha sottolineato il Concilio Vaticano II in quanto ogni battezzato è chiamato a essere annunciatore della parola di Dio e a essere trasmettitore anche della fede. Quindi la trasmissione della fede non è soltanto questione legata ai parroci e ai vescovi e altri ma a tutto il popolo di Dio e in quanto tale diventa un elemento di comunità. È la comunità in quanto tale a questo punto qua che trasmette la parola di Dio in modo particolare con il modo in cui vive e con i suoi ministeri, con i suoi servizi. Abbazia aperta in orario straordinario ed enogastronomia all'interno dei musei. Quello che Nonanto la propone in occasione della Notte Europea dei Musei è un percorso del tutto inedito che unisce arte e gastronomia per un coinvolgimento completo di tutti i sensi. Un'iniziativa davvero accattivante. Una notte alla scoperta dell'arte e della buona tavola. I musei di Nonantola, insieme a Comune, Partecipanza Agraria e Fondazione Orret Labora organizzano per sabato 19 maggio Assaggi di Museo, un percorso enogastronomico che si svilupperà nella città dell'Abbazia in tre tappe dalle 8 di sera fino a mezzanotte. La Notte dei Musei 2012 comincerà con l'aperitivo a base di parmigiano reggiano, aceto balsamico e prosecco al Palazzo della Partecipanza. Durante l'aperitivo lettura della carta di Gotescalco a cura di Lella Baraldi con l'introduzione storica di Ivan Melotti. Il tour proseguirà al Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra con una visita guidata e la messa in scena di una commedia dialettale a cura di Maurizio Marinelli. La tradizione culinaria modenese sarà protagonista anche sotto l'Abbazia con un piatto unico a base di gnocco fritto, salumi e lambrusco nel giardino abaziale. Belsone e Lambrusco saranno invece serviti come dessert al Museo di Nonantola ma solo dopo aver assistito ad una scala di sapori il percorso animato attraverso i quattro piani della Torre dei Bolognesi. Il tour verrà diviso in due turni, ognuno di un'ora e mezza, il primo alle ore 20, il secondo alle 21.30. Ritrovo e ritiro biglietti presso il punto di informazione turistica al Palazzo della Partecipanza Agraria in Via Roma 21. Per prenotarsi è necessario telefonare entro venerdì 18 maggio alle ore 12.30 al numero 059 89 65 55. Il costo del biglietto intero è di 15 euro, ridotto per bambini e studenti fino a 26 anni a 10 euro e gratuito per bambini fino ai 10 anni. Non è tutto, nel corso della Notte dei Musei 2012 ci sarà l'apertura straordinaria della Bazzia Romanica di San Silvestro dalle ore 20 fino a mezzanotte, un'ulteriore occasione per conoscere meglio il simbolo di Nonantola e scoprirne i tesori. Ed ora un breve stacco pubblicitario, ci vediamo subito dopo con l'agenda di Luca e lo sfoglio di nostro tempo di Don Marco. Bentornati allo spazio degli appuntamenti diocesani, apriamo l'agenda con una segnalazione che riguarda Monsignor Antonio Lanfranchi che da lunedì 21 a giovedì 24 maggio sarà a Roma per partecipare alla conferenza episcopale italiana. Secondo appuntamento martedì 22 maggio alle ore 20 e 30 al centro famiglia di Nazareth terzo ed ultimo incontro con Giovani Vangelo e Lavoro il percorso organizzato all'interno del progetto Policoro della diocesi di Modena Nonantola con l'obiettivo di dare concreta risposta ai problemi del lavoro. Il titolo di questa terza tappa sarà Domando loro che cercate cosa concretamente offre il nostro territorio ai giovani. I relatori della serata saranno i tecnici dei servizi istruzione, formazione professionale e lavoro della provincia di Modena e Massimo Cavazzuti, vice direttore della città dei ragazzi. Sabato 26 maggio alle ore 21 in Duomo, Veglia di Pentecoste appuntamento tradizionale che chiude la novena di Pentecoste in programma da venerdì 18 a sabato 26 maggio al monastero della visitazione di Baggiovara. Alle 21 ci sarà l'accoglienza, poi un momento di preghiera comunitaria in seguito uno di meditazione personale e al termine l'esecuzione di musiche sacre. A guidare la veglia sarà Monsignor Antonio Lanfranchi. Come sempre chiudiamo con un'anticipazione. Domenica 27 maggio torna sulla misura del cuore del Signore. Un'intera giornata insieme per il gruppo che sta seguendo l'itinerario diocesano per separati e divorziati. Chiudiamo qui lo spazio degli appuntamenti, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Ben trovati amici, iniziamo insieme allo sfoglio del numero di nostro tempo che porta alla data di domenica 20 maggio. Nella prima pagina, grande foto per articolo d'apertura, la prima forma d'amore. A Modena l'incontro regionale sul tema del lavoro. Occasione per sottolineare ancora il primato della dignità umana sul lavoro. Il 3 richiama le pagine interne, prima dedicata a un tema di attualità, l'idea di giustizia. Il premio Nobel a Marcia Senne a Modena per parlare di sviluppo possibile. È stata anche l'occasione di un servizio di questo numero di intorno alla Ghirlandina. Poi il laboratorio Nicodemo, plasmare e plasmarsi. Si è concluso il corso laboratorio proposto per la catechesi con gli adulti. Poi si avvicina la veglia e il tempo di Pentecoste per l'effusione dello spirito. La novena è la veglia di Pentecoste con gruppi e movimenti ecclesiali. L'editoriale Il Punto porta al titolo Suicidi e crisi, un appello alla conversione. Ed è legato al tema di attualità di questo periodo di crisi e legato anche ai suicidi che sono stati in quest'ultimo periodo. Iniziamo insieme lo sfoglio delle pagine interne e troviamo nella pagina della diocesi Vivere per scegliere o scegliere per vivere il percorso formativo per i volontari della Caritas Parrocchiali e del Centro d'Ascolto Diocesano. Poi la pastorale familiare ci ricorda che stiamo arrivando verso l'incontro mondiale delle famiglie e si trarà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno prossimo. Volontari della sofferenza, cinquantesimo, anniversario, terza tappa per la festa. Poi troviamo nella pagina dedicata al tema dei giovani la spiritualità del concreto. La prima tappa del progetto Policoro che coinvolge i giovani della diocesi di Modena le domande vere. E sul tema della legalità, fare società, costruire comunità. A Modena la carovana antimafia 2012 si è concentrata sul tema della responsabilità sociale. Tema delle testimonianze non potevamo far finta di niente il ritrovo a Magreta nei giorni scorsi dei partigiani cattolici della Brigata d'Italia per parlare di valori e ideali ai giovani di oggi. E poi sempre legato al tema della seconda guerra mondiale si è fatto prossimo. Odoardo Focherini, ucciso in odio alla fede e perché salvò molti ebrei, sarà proclamato beato. Il box ci ricorda che era giornalista e testimone della fede. Proseguiamo, andiamo a vedere una pagina dedicata a una zona della nostra diocesi in particolare la Pede Montana testimoni gioiosi della novità del Vangelo il cammino dell'azione cattolica ragazze di Formigine nelle parole di chi ha questo percorso ventennale ha dato forma e continuità. Si sta avvicinando ormai l'estate col mese di giugno inizieranno diversi centri estivi troviamo in una pagina di nostro tempo il riferimento con l'elenco dei centri estivi che ci saranno nei vicariati della Bassa della Montagna e di Campo Gagliano grazie e arrivederci Intorno alla Ghirlandina finisce qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana come sempre sul canale 10 di Antenna 1 giovedì alle 21 in replica domenica alle 8 vi ricordiamo inoltre che sul sito di Nostro Tempo all'indirizzo www.nostrotempo.it nella sessione multimedia trovate tutte le puntate della nostra trasmissione grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti